Monti, sei troppo figo! Forza ragazzi! Oh, finalmente siete qui! Forza Gregor, andiamo! Mi spiace Freddy, ma sto giocando con Monti adesso! Pronti? Sì! Divertite! Ciao, ne! Allora, che si fa oggi? Beh, ecco! Gregory è andato a giocare con Monti invece di stare qui con me! Ah, lascialo fare! Stai con me! Possiamo fare i cattivi oggi! Giochiamo a questo! Oh, wow! Quei cosi mi aiuteranno ad attirare l'attenzione di Gregory! Grazie! Proxy, andiamo a truccarci! Ciao ragazze! Che fai? Passiamo per di qua e... Ma che? Ehi, ehi! Non agitarti troppo, eh! Ma mi sto divertendo tantissimo! Monti, ascolta una cosa! Ho un piano! Eh? Ma che stai facendo? Ecco io! Eh? Che succede? Ma perché non sta funzionando? Non è che... Che mi sta succedendo? Oh, no! Oh, no! Amico mio! Sono il nuovo Monti! Monti! Zeta! E' Roxy! Oh, ho fatto casera! Ma che cosa è successo? Piatta Turetta! Idiota! Nessuno dei paraggi, siamo salvi! Oh, grazie Amico! E ora dimmi, che cosa hai fatto? Io volevo solo giocare! Qualcosa di divertente! Me ne ha parlato Barney! Ah, mi prendi in giro, Barney! Avresti dovuto capirlo, che era un piano malvagio! Mi dispiace, io non... Sono qui! Oh, no! Oh, forza Gregory! Scappiamo! Non andrete da nessuna parte! Dobbiamo risolvere questa faccenda! Prima che par... Oh, no! Mi prego! È tutta colpa mia! Freddy! Mi dispiace! Volevo solo giocare con Gregory! Mi sento così inutile! Che manzoso! Basta con queste smancerie! Hai fatto un buon lavoro, Freddy! Ma ora tocca a me finire il tutto! Aspetta! Oh, no! Non ascoltate, Bunny! Siamo amici! È il nostro potere! Ricordatevi del vostro amico Gregory! E ricordatevi del vostro amico Freddy! Uno, due, tre! Riportiamo indietro i nostri amici! Rampicca! È monte! Bunny! Meglio togliere le tene... Oh? Ciao! È meglio che tutti ti fanno più vedere! Non appiccino di più a noi! Non provarci nemmeno! Sono così confuso! Freddy! Amici! Perché si perdono sempre? Io... Io... Non riesco a... A muovermi... Oh, ma cosa ti è successo? Io... Io non ricordo... Cosa posso fare? Oh! Questo può tornare utile! Ma dove si sarà cacciato? Quel bimbo combina guai! Eh? Ma... Ma col postere di... Bonnie! Il mio vecchio amico! Mi manca tanto! Come anche i vecchi tempi! E per ultimo... Il ginocchio! Proprio come nuovo! Lui dove è? Di chi è che stai parlando? Oh! Wow! Sono stato aggiustato per intero! Eh? Eh... Ciao! Sono Gregory! Ti ho aiutato io! Gregory? Hmm... Ti conosco! Eh... No! Ti prego! Non farmi del male! No! Non voglio farti del male, amico! Ehi! Oltretutto! Volevo ringraziarti per avermi aggiustato! Cosa stai guardando? Gregory! Ma ma... Ma dove sei? Tanto dove ti sei cacciato, piccolino? Ma... Eh o non è l'animatronics più famoso al mondo? Cosa? Oh mio Dio! Bonnie! Salve Salvino! Piacere di rivederti! Oh! Amico! Non hai idea di quanto sia felice? Oh! E dammi un abbraccio! Oh! 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 Ma siete così carini insieme! Sai, sei fortunato! Quella ragazzina è una forza! Oh! L'hai aggiustato! Sei un tesoro! Come farei senza di te? Adoro la pizza! Anche un po' Bene, bene, bene! È il momento di portare avanti il mio piano malvato! Sapete una cosa? Vorrei che Chica fosse qui! Lei va matta per la pizza! Dovremmo andare da lei! Sono d'accordo! Se andassimo da lei lo vedrebbe come una sorpresa! Oh! Ah! Ora so cosa devo fare! Ehi ma! Dove sono i miei super amici? Ciao Ciccia! Tadà! Ne vuoi un po'? Oh mio Dio! Sì! Dammene un po'! Sarà la miglior pizza che tu abbia mai mangiato! Prendi! Gustatela fino in fondo! Mmm! Buonissima! Sarà proprio gustosa! Grazie! Buonissima! Ci vediamo! Dai guardate! Oh! Ciao ragazzi! Oh no! Chica! Ma soccorrela dai! Oh mio Dio! Ah! Ma 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 che è? Chica non c'è più! Ora combattete con me! Non preoccupatevi ragazzi! Ci penso io! A noi due! Prendi questo! Ah 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 ah! Ah ah ah! Ah 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 ah! Oh no! Ma come è possibile? Oh no! Ragazzi dobbiamo andarcelo! Vieni con me Gregory! Roxy dobbiamo trovare un posto dove poterci nascondere! Eh? Io! Aspettatemi! Ah 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 ah! Ah? Cosa? Dove sono andati? Vedi? Hanno mangiato pizza senza di te! E' così che si trattano gli amici! Grrrr! Lo vedremo! Venite qui! Oh! Non c'è via d'uscita! Dove credi di andare? Combattimi se hai coraggio! Ok! La mia amica Roxy! Io non riesco a crederci! Perché l'hai fatto? No! Non ero in me! Lo giuro! Devi credermi! Non riuscivo più a controllarlo! E' stato più forte di me! E allora? Chi è stato? Non lo sapranno mai! Non lo so! Ah! Ehi ragazza! Devi seguire i miei ordini malpati! Ok! Ehi! Eh! No! Chica! Ti prego! Non farmi del male! No! Eh! Che stai facendo? Oh! Questo gioco finisce ora! No! Stai lontano da me! Ah! Ok Roxy! E' il momento di svegliarsi! Forza! Sto bene Gregory! Che bello! E' un sollievo! Ho avuto molta paura! Ora che sto bene posso tornare dai miei amici! Ah! Dobbiamo trovare Chica! Oh! Eccoti qua amica mia! E finalmente posso abbracciarti! Anch'io! Ciao! Il suo nome è Red! E mi piace guardare Spongebob! Io sono Wall-E! E anche a me piace Among Us! Oh! E' divertente! Io cosa sto pianificando e non riderebbero così tanto! Oh! E' stato divertente! Ma che cos'è? Gregory! Attenzione pericolo animatronico! Oh! Non di nuovo! Ma sotto quello tra vai! Non preoccupatevi amici! Se volete abbandonarmi potete andare! No! Ecco qui! Non possiamo farlo Gregory! Vieni qui amico! Noi ti vogliamo fare! Ti vogliamo bene! Non abbarterti dai! Il mio piano è stato sabotato da quegli idioti! Vabbè! Sì di inizio al piano B! Ahahahahaha! Cosa? Oh Gregory! Dietro di me! Ci pensarò io a lui! Tadam! Era uno scherzo! Guarda che faccia che c'hai! E' stato un bello scherzo! Guarda Gregory! Non farlo di nuovo! E' come se il mio cuore fosse uscito dal petto! E' stato tipo dammi la tua anima! Sei proprio uno spazio! Non è possibile! Ok! Capirete cosa significa essere malvaci! E' stato un piacere amici! Venti a questo! Oh! Oh! Ehi! Non c'è bisogno di esagerare! Va bene così! E' divertente! Ma... Cos'è si esagera? Mi sto preoccupando! Oh! 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 Andiamo! 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 E' qui! Ecco qua! Dovremmo essere al sicuro! Oh! Freddy! Siamo suoi amici! Dovremmo poterlo aiutare! Ma cosa possiamo fare? Pensiamoci un po' di... Io ho un piano! Io non merito questo! Ehi tu! Siamo qui! Oh! Ciao! Aspetta! Ho una cosa per te! Te la ricordo! Perché sono di questo colore? Io non sono malvagio! Sono una brava persona! Penso che ho solo bisogno di un abbraccio! Vieni qui! Non mi devi toccare! Oh! Oh no! Ora vedrai la mia vera natura! Sei pronto a dormire per sempre? Dio a dio! Sparta così! Ora è finita! Sì! No! Il mio piano è rovinato! La pagheranno per me! Sei tornato! Sei tornato! Voi siete i migliori amici che abbia mai avuto! Ha 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 ha! Ha 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 ha!